buongiorno mondo buongiorno pazzi ciao francesco sì proprio te te senti qua c'è un casino della madonna non riesco a capire sono andata a guardare il tuo canale tra l'altro veramente ho trovato un bello scritto da parte di com'è critica c'è non riesco più a capire niente perché prima di tutto ci sono due barbare e ho visto barbara critica critica non mi ricordo più come si chiama è un'altra barbara qualcosa io non ci capisco più niente comunque di una cosa sono sicura di quello che mi è scritto diversamente critica ecco è stata un po pesantina ecco però come detto il gesto che io ho fatto con non era però non riesco a capire lo stesso mi ha parlato di una simona ma non capisco chi è questa simona niente tutto qua comunque insomma sono rimasta nel leggere diversamente critica quello che ha scritto che parlava di amore era una cosa lunga così e poi non capisco questo suo parlare appunto alla cavolo sotto 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 il canale ma comunque non importa non lo so non riesco a capire chi è barbara a critica ne so chi è perché mi ha detto un po però a te mi sembra veramente un bravo ragazzo comunque niente poi mi hai chiamato prosciuttona ce l'avevi con me vabbè io la prendo a ridere comunque un bacio grazie grazie